Sabato pomeriggio di prove libere a Forio per la sesta edizione dell'Ischia Mare Cross, evento organizzato dall'associazione Ischia Cross con il supporto del team Cerbone Fashion Bike e il patrocinio del comune di Forio. I piloti delle varie categorie che domani si daranno battaglia hanno potuto provare il nuovo circuito della Chiaia durante le tre sessioni da 10 minuti a loro disposizione. Buona la risposta da parte del pubblico che ha seguito da lontano e in sicurezza le prove dei piloti in pista. Grandi apprezzamenti per il giovanissimo alberico Chicco Paladino, classe 2013, nove anni da compiere tra qualche settimana, decisamente il più giovane sulla pista della spiaggia foriana. Già da oggi evoluzioni spettacolari hanno caratterizzato in particolare i giri delle categorie MX1 e MX2, le classi regine della manifestazione, con Alfredo Memoli a fare la parte del leone, con un crono stabilmente sotto i 44 secondi a giro. Suo il miglior tempo assoluto fatto registrare nella seconda sessione di prove, 41 secondi e 8 decimi. La sfida è lanciata. Domani appuntamento già dalle 9 in spiaggia per la partenza delle prime manche di gara.